180 giocatori che si sfideranno sulle 18 buche del circolo golf Villa d'Este. Il prestigioso campo di Montorfano ospiterà sabato la terza edizione del trofeo Green Golf Academy. Tre le categorie ammesse, con premi per il primo e il secondo di categoria, il primo juniores, il primo signore e il primo super signores. Sono previsti anche premi speciali lungo il percorso. La gara è organizzata dalla Green Golf Academy, scuola fondata e diretta da Alessandro Frigerio. Un successo che da tre anni va crescendo, una media di 170-180 partecipanti. È un trofeo di 18 buche dedicato agli Amator, 18 buche Stableford, dove oltre ai classici premi di categoria ci saranno tantissimi premi speciali lungo il percorso. Degli importanti premi a estrazione è un simpatico soft dinner accompagnato da musica dal vivo per essere una gara conviviale e anche divertente in un contesto che rende sicuramente la competizione magica e importante. La terza edizione del trofeo Green Golf Academy cade nel novantesimo anniversario del circolo golf Villa d'Este. Un traguardo importante, una storia meravigliosa. Quest'anno compiamo questi primi 90 anni, 90 anni che ci hanno portati a diventare uno dei circoli golf più prestigiosi e più rinomati non solo in Italia ma anche in Europa e all'estero. Un percorso che vogliamo continuare, un'eredità che vogliamo portare avanti sempre con un'offerta di qualità. In questo contesto la collaborazione con Green Golf Academy era proprio la cosa che cercavamo per dare anche un rilancio alla scuola e a tutta la struttura che riguarda l'insegnamento. L'appuntamento è fissato a 9 aprile, vi aspettiamo numerosi e con Green Golf Academy e con il circolo golf Villa d'Este sicuramente ci divertiremo. Grazie a tutti.